Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì. Come sempre iniziamo dall'Europa dove, come vedete, il tempo resta brutto alle medie e alte latitudini in tutti i settori orientali del continente, qui anche con delle nevicate e in effetti le temperature sull'Europa orientale restano piuttosto basse, ma nel resto del continente tutto sommato guardate i valori anche relativamente miti per il periodo. Ora passiamo all'Italia dove nel complesso mercoledì sa una giornata buona ma con un po' di nuvole sul versante tirrenico e qualche foschia in pianura padana. Tra poco entriamo nel dettaglio, vediamo intanto le temperature che restano sopra la media, sia i valori all'alba, le minime, sia soprattutto le massime che al centro-sud potrebbero anche toccare i 15-16 gradi. Ora entriamo più nel dettaglio della previsione. Per quanto riguarda il nord, diciamo, foschidense e cielo a tratti grigio in pianura padana, soprattutto a inizio giornata, e nuvole in Liguria con la possibilità anche di qualche goccia di pioggia sulla riviera di Levante. Nell'Italia centrale tempo discreto, ma anche qua con un po' di nuvole di passaggio, soprattutto sulle regioni tirreniche. In Toscana cielo a tratti proprio grigio. Infine per il sud Italia sarà una giornata buona, con solo qualche nuvole di passaggio, ancora una volta più che altro sul versante tirrenico e come dicevamo con temperature ben oltre la media. Con questo è tutto, ma state con noi su